Salve, il mio nome è Andrea Pucci, sono endocrinologo qui a Dottor London e oggi parleremo di ovaio policistico. L'ovaio policistico è una malattia endocrina, può interferire sia con la fertilità della paziente sia può creare delle manifestazioni estetiche che non sono gradite come l'irziotismo, la perdita di capelli o l'acne. Si può associare all'eccesso ponderale e all'insulino resistenza e quindi è importante identificare soggetti che ne soffrono in collaborazione spesso con un ginecologo con la quale spesso collaboriamo per identificare il problema e poi ci sono delle cure importanti che possono agire da vari punti di vista, possono più interessare la perdita di peso, l'insulino resistenza, come possono più essere collegate le manifestazioni cutanee della malattia e quindi possiamo identificare il problema e mettere in atto delle terapie per cercare di risolvere il problema. Quindi se volete avere maggiori informazioni riguardo a come possiamo identificare e valutare il problema dell'ovaio policistico anche in collaborazione con i ginecologi qui a Dottore London, non esitate a chiedere informazioni saremo in grado di darvi tutta l'assistenza che necessitate.